punendo i cattivi, quelli che ci condannano ingiustamente. L'altro invece che si rendeva conto di aver sbagliato, chiedeva a Gesù, aveva capito che Gesù non è un uomo di Dio, un profeta, ma è il figlio e ha ogni potere e dice Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno e Gesù gli dice oggi sarai con me in paradiso. Questo Davide, David del monte dei Paschi di Siena che dopo aver commesso una fesseria si toglie la vita, l'aveva incontrato Gesù, qui sulla terra no, è la stessa cosa di Giuda, Giuda aveva incontrato Gesù, gli era andato appresso per tre anni, ma voleva che Gesù facesse quello che diceva lui, non quello che dice Gesù e sappiamo la fine che ha fatto, si è tolta la vita. Ecco carissimi amici, quello che cerco di dirvi e vi supplico e vi scongiuro, cercate di ascoltare, la vera tentazione dalla quale dobbiamo chiedere al Padre Eterno di liberarci come Gesù ci ha insegnato. La vera tentazione non è quella di cadere nel peccato, imbrogliare, rubare, uccidere e fare altre cose squallide, la tentazione, la vera tentazione viene dopo il peccato perché siamo tutti peccatori, Gesù vi ricordate cosa ci ha detto? Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra e i primi a lasciare la pietra furono gli anziani, le persone con più anni di vita alle spalle e piano piano anche i giovani, perché siamo tutti peccatori, tutti pecchiamo. Oggi nelle chiese quante persone si confesseranno, ma non tanto col prete, ma anche quelli che vanno dal prete, ma quelli che reciteremo, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato, molto in pensieri, parole, opere e omissioni, perché noi non pensiamo secondo Dio, noi pensiamo secondo la mentalità di questo mondo che è nella schiavitù, dell'usura, sordi, sordi, usura, sordi, i sordi fanno venire la vista le cieche sulla tentazione. Io ricordo quando andavo in banca, quando ci capita ogni tanto, è scherzo, dico state vattene dagli sordi, perché un fuoco di un birno si fa con gli sordi, tutti si foglie di carta con il bananente, i sordi, i piaceri, il potere, affascinano. Ecco, bisogna stare attenti, bisogna vegliare e pregare. Chi è Dio? Ci hanno insegnato al Catechismo, un po' sbagliando, una risposta filosofica. Dio è l'essere creatore e signore del cielo e della terra. Questo secondo me è un diavolo che ci ha ispirato a questa risposta. No, 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 Dio è il Dio che ne è venuto a rivela, è il Dio di Gesù Cristo, che ne ha raccontato la parabola del figlio del prodigo. Ecco, chi è Dio? Dio è il Dio di Gesù Cristo, il Dio degli ebrei che ancora la maggior parte non lo hanno accolto. Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Gesù è un ebreo, ma non è stato accolto da tutti gli ebrei. Questo è un mistero. Io ricordo che Don Giussani diceva, una decina d'anni fa, quindi sono 60 anni, fra 70 anni gli ebrei si convertiranno, cadrà questo velo, perché tanti ebrei non riescono a concepire Dio attraverso Gesù. Perché è uno scandalo che non Dio nasce in una stalla con l'animale e mora in giubato a una croce come un assassino. Ecco, loro non riescono a concepire, ma manco noi, perché noi siamo tutti giustizionalisti. Volemo che quando uno sbaglia, ecco, ci scarichiamo. Non risolviamo nessun problema, carissimi amici. E questa è la sfida. Io ho fatto una provocazione ai miei amici del carcere di Cosenza. Ho fatto questo fogliettino che oggi riceveranno quelli che verranno a messa. Ecco, la Pasqua è ormai vicina, perché 24 marzo, Domenica delle Palme, Settimana Santa, 31 di marzo, Pasqua. Ecco, la Pasqua è ormai vicina. Ma io risorgerò. Ecco, gli alberi, le piante, adesso hanno già incominciato, rifioriranno, risorgeranno. Ma io, tu, risorgeremo. Questa è la provocazione, carissimi amici. Dobbiamo pregare. E non dobbiamo chiedere solamente la salute, il quieto vivere. Dobbiamo pregare Gesù Cristo, perché la Chiesa ce lo mostrerà. Ecco, nella Settimana Santa, il giovedì, venerdì, sabato, il triduo, ce lo mostrerà nel suo annullamento. Che vuole Gesù da me, da te? Un buon nente. E ne vuole farci pesare quello che ci fa pesare questa nostra coscienza. La coscienza ci rimprovera continuamente. Tutti quanti si mutine scrupoli e coscienza per i peccati camufatti che facciamo. Ecco, Gesù non viene per questo. Gesù viene per liberarci. Quindi, a fine di questo mese, la Chiesa ci mostrerà il vero Gesù, il vero volto di Dio che si è manifestato in Gesù. E inizieremo proprio il giovedì santo con Gesù che si inginocchia davanti a me, davanti a te, come si sarebbe voluto inginocchiare davanti a questo David Rossi e con tutti quelli che si tolgono la vita, perché magari hanno fatto qualche peccato brutto o hanno subito qualche peccato brutto e quindi hanno perso la fiducia in Dio. Gesù si vuole inginocchiare. Dio che viene ad inginocchiarsi davanti ad ognuno di noi per lavarci i piedi, per mostrarci il vero volto di Dio e poi la sera del giovedì meditare il tradimento di un amico con un bacio. Ecco, la Pasqua è ormai vicina, carissimi amici, in quest'altra primavera che il Signore ci dà da vivere. Ma noi risorgeremo? Ecco, io risorgerò? Ecco, si accoglierò nel mio cuore, non tanto nel cervello, ma nel mio cuore che è pieno di macchie e pieno di sporcizia, accolgo questo amore. Quindi forza, amici miei carissimi, forza, forza, preghiamo, preghiamo col cuore, non tanto con la bocca. E la preghiera cristiana per eccellenza è, vieni Signore Gesù, ecco, Gesù Cristo, figlio di Dio, misericordia di me, peccatore di me, che faccio fatica a credere in Dio. Vieni tu Gesù, ecco, e dammi la forza tua di credere in Dio anche se tutte le cose mi dovessero andare storte. Allora riceviamo la forza. Allora, carissimi amici, arrivederci a Dio piacendo alla prossima domenica, nella quale probabilmente possiamo gioire per il nuovo Papa, che speriamo i cardinali scelgano quello che Dio vuole e non quello che vogliamo noi. Allora vi saluto e arrivederci a tutti. Nel mondo, più di cento milioni di bambini non vanno a scuola. Con il sostegno a distanza, Avsi vuole costruire un futuro migliore. Aiutaci. Alleluia, 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 alleluia. Grazie a tutti